Buonasera a tutti gli spedatori, per noi è molto importante partecipare alla Marcia della Libertà, che è tanti anni che partecipo, perché io sono tibetana, come rappresentante tibetana, per noi tibetani, anche per Yogur, anche per Venezuela, tanti popoli sono oppressi, quindi per noi è molto importante partecipare alla Marcia, per esempio in Tibet veramente manca la libertà, libertà di parola, libertà di religioso, chiunque, qualsiasi libertà non c'è, quindi il governo cinese vieta tantissime libertà, per esempio i ragazzi tibetani non possono nemmeno studiare la nostra lingua, per esempio io faccio un esempio di un bambino di sei anni, Panchen Lama si chiama, quando lui aveva sei anni il governo cinese ha fatto sparire, noi non sappiamo niente, non c'è ancora la sua notizia, per esempio minima, no? Poi per esempio ci sono tantissimi prigionieri politici, soprattutto come per esempio Chukut Tenzin Deleg, lui è morto nel carcere recentemente, tanti anni è stato in carcere, poi ci sono tantissimi carcerieri, manca proprio libertà anche perché il popolo tibetano fatto una protesta di non violenza pur di non danneggiare nessuno esseri sensenti, nessuno, e loro si danno fuoco come autoimulazione, finora 150, più di 150 sono autoimulati per la protesta contro il governo cinese, però tutti i capi del mondo interessano la loro economia, quindi non frega niente dei diritti umani, diritti in Tibet, diritti sono stati calpestati, veramente, nessuno frega niente dei diritti umani, per questo è molto importante anche partecipare a questa marcia perché questa marcia crede nella libertà, crede nella libertà di tanti popoli, ci sono i uguri, anche i tibetani, poi ci sono i venezueli, l'Iran, ci sono tantissimi popoli che mancano la libertà, quindi per noi è fondamentale, molto importante. Voglio farti un'altra domanda, come donna, è importante anche penso come madre, sia quello di tutelare proprio i figli, essendo diciamo la donna forse più aperta al dialogo nella storia, anche dal punto di vista religioso in Italia viene affidata diciamo alle donne il dialogo anche nella Chiesa, voi come donne, visto che prima abbiamo intervistato Blanca, ora siamo intervistando a te, portate un messaggio di pace nel mondo rispetto molte volte agli uomini che si fanno guerra, la donna invece è portatrice di pace? Sì, allora per noi come donne tibetane, molto importante è portatrice della pace perché proprio il nostro capo spirituale, il suo Santidello Dalai Lama, sempre spiega la non violenza, la libertà è fondamentale, questo è molto importante, perché dici che i genitori sono importantissimi per i figli, far crescere bene, far dare una buona educazione di non violenza, quindi insegnare a loro proprio di amare, amare il prossimo, volersi bene, tutti, tutti, come nostra religione buddista, filosofia buddista dice amare tutti, essere sensenti, no? Non solo te stessi ma devi amare tutti, anche animali, anche perché noi nemmeno uccidiamo zanzara, questo come amore verso il prossimo, questo è il nostro amore fondamentale, come si chiama, importantissimo per noi, tutte le religioni sono importanti, però noi diciamo che tu sei uno ma altri sono tanti, quindi molto importante altri, altruismo, altruismo è fondamentale, molto importantissimo. Un'ultima domanda, anzi in questo caso un invito, fai un invito proprio a chi ci ascolta a venire a questa marcia perché è importante, venite a questa marcia perché noi siamo qui e manifestiamo per la libertà. Allora chiediamo al popolo italiano di venire domani alla marcia della libertà, che parte dalla piazza Mazzini alle 16 fino a Castel Sant'Angelo. Se chi crede ha la libertà venite con noi a marciare insieme, venite in numerosi, portate anche i vostri amici, bambini, così potete insegnare ai bambini che visto che anche altri popoli hanno bisogno della libertà. Grazie. 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 Grazie.